Pesce fresco tutti i giorni? Sì! Sapore di mare, ora è aperto anche di domenica. Sapore di mare, come appena pescato. Come non darvi il buongiorno quando la parola d'ordine è sole in vista? Sul nostro territorio infatti persistono condizioni di stabilità atmosferica anche se nel corso della giornata di giovedì potremmo andare incontro ad una debole fase di instabilità. Fino ad allora potremmo godere di un cielo in prevalenza soleggiato su tutto il territorio con valori termici che tenderanno ad aumentare ancora, seppur di poco. Ma vediamo nel dettaglio che tempo farà sul territorio vicentino. Nella notte di mattinata il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso. La visibilità sarà buona, avremo una generale calma di vento. Anche nel pomeriggio il sole la farà l'adopadrone su tutto il territorio con temperature assai gradevoli e superiori ovunque ai 20 gradi. In serata il tempo continuerà ad essere stabile con cielo generalmente sereno o poco nuvoloso sia in pianura che in montagna. Sulle nostre strade poi la visibilità continuerà a mantenersi buona. Per quanto riguarda la situazione dei venti avremo una ventilazione generalmente debole e di direzione variabile. Infine le temperature che potete osservare in grafica. saranno in leggero aumento in entrambi i valori estremi di giornata. Anche per oggi siamo giunti al termine del nostro appuntamento. Grazie per la vostra attenzione. A domani. Pesce fresco tutti i giorni? Sì! Sapore di mare. Ora è aperto anche di domenica. Sapore di mare. Come appena pescato. Sapore di mare. Sapore di mare. Grazie a tutti.